La preoccupazione c'è perché ripeto, al di là di battute che possono uscire fuori, che c'è stato quello che l'altro, le scorte, quello che può essere, però francamente non è un bel vivere. Un rogo di origine dolosa è questo quanto è successo domenica mattina attorno alle 6 nella deposito di poste italiane, ci troviamo in via Don Luigi Sturzo nella quartiere di Pescaiola. Le fiamme sono partite da questa autovettura, i vandali hanno infatti prima mandato in frantumi il vetro dell'auto con un pezzo di motorino per poi innescare l'incendio, le fiamme così si sono velocemente propagate alle altre vetture circostanti. Il deposito e parco auto si trova a lungo l'allarme scattato ieri mattina attorno alle 6.40 quando un passante una volta notata la densa colonna di fuma ha chiamato i vigili del fuoco. Le indagini sono portate avanti dalla squadra mobile della questura di Arezzo, questa mattina nuovamente sul posto per ulteriori rilievi. Al vaglio degli inquirenti filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona alla ricerca così di ulteriori elementi utili alle indagini, presente questa mattina anche la scientifica per i rilievi. Al momento la pista maggiormente accreditata resta quella dell'origine dolosa del rogo. Il deposito e parco auto si trova a lungo la ferrovia nella zona industriale di Pescaiola, teatro alcune settimane fa di un altro incendio probabilmente sempre di origine dolosa. Il rogo in quel caso ha interessato il piazzale di Confagricoltura, in fumo la casetta di legno degli apicoltori.